Ci sarà anche un po' d'Italia a New York in occasione del decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Protagonista sarà una delle cose che gli stranieri apprezzano di più del nostro paese, la cucina. A portare alta la bandiera della tradizione gastronomica italiana sarà Massimo Bottura, il pluridecorato chef dell'Osteria Francescana di Modena designato per la cena di gala che si terrà il 14 settembre a Central Park. 400 gli invitati, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Qualche piccola curiosità sul menù che verrà offerto agli importanti ospiti internazionali ce le racconta lo stesso Bottura. Io che arrivo da Modena e sono emiliano ho creato un menù tutto basato sui nostri prodotti. Quindi ho preso come spunto la mediterraneità e questa idea della dieta mediterranea e ho fatto affluire tutto in Emilia i miei prodotti, i prodotti dell'Emilia. Quindi ho creato un menù basato proprio su questa idea di pescare dall'Adriatico, dal Mar Ligure e dal Mediterraneo e fare affluire in Emilia perché noi siamo emiliani, la barilla è emiliana perché credo che in Emilia ci siano probabilmente i migliori prodotti del mondo. Io viaggio continuamente quindi mi confronto continuamente con diverse realtà e quindi sarà un menù che racconterà la storia del nostro territorio. La cena di Gale è uno degli eventi clou di Summer of Italy, la Kermess che promuove la nostra cultura e che assume un significato speciale nel decennale dell'attentato alle Torri Gemelle. La sera successiva è previsto un altro momento di grande emozione col concerto di Andrea Bocelli. Quindi tra gli impegni di Massimo Bottura ci sarà la partecipazione nelle vesti di Oste al corteo storico della Sagra del Tortellino di Castelfranco, domenica 18 settembre.